Una bella ripresa alla russola Cianusantia e il fungo ingratevonissimo guarda che spettacolo guarda che roba guarda che spettacolo guarda Sì russola Cianusantia ci sono perfette sono veramente perfette belline belline questa è una ripresa bellissima queste sono le Cianusantia perfette andiamo piano eh andiamo piano con la telecamera ce ne è andata qua bellissime veramente stupende bellissime perfette 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 guarda questa è la Cianusantia vediamo ancora se c'è qualcun'altra siamo il 5 di ottobre che 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 che